Ma ragazzi, in realtà Mirko mi ha raggiunto sabato e domenica, ovviamente è stato un momento nostro, intimo, trovandoci in una situazione un po' brutta, quindi non l'abbiamo condivisa, ma lui mi raggiunge il 24, quindi stiamo un pochino insieme e faremo qualcosina, magari anche qualcosina di carino io e lui. Ma direi che in questa nuova vita che sto intraprendendo, voi comunque siete i protagonisti e ho capito che nel bene o nel male voi ci siete, ma che soprattutto mi date la forza di reagire, di andare avanti e di portare a termine i miei obiettivi. Ma soprattutto ho capito che posso contare su di voi, per me questa è una cosa molto importante. E allora amici miei, noi come voi siamo contentissimi di sapere che Perla sta da Dio, è tornata in gran forma, ha questi capelli che sono come seta, come delle tende di seta che abbracciano il suo viso, magari li ha visti io così, ci sentiamo al prossimo aggiornamento sui capelli di Perla, ciao!